Siamo per una volta in Francia e questa volta l'area che vi ascolteremo è tratta da un'opera moltissima di Charles Boudin, l'opera è di Faust e è notoriamente conosciuta come l'area dei gioielli, l'area di Giù. Sapete che è il momento in cui Margherita, la protagonista femminile dell'opera, viene seduta appunto da Epistopere, da Faust che ha già venduto l'anima al diavolo, al demonio e sta cercando di sedurlo, di farla innamorare a tutti i costi di lui. Quest'area è diventata appunto nel primo atto ed è il momento in cui Margherita questa maledizione comincia ad assortire il suo effetto ed è appunto il momento in cui Margherita comincia ad innamorarsi appunto del maledetto Faust. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.